Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto nel pieno centro Umbertino dinanzi a Palazzo degli Uffici, quello che era l'antico e storico tribunale di Taranto poi ovviamente prima dello sfascio totale e del declino assoluto ospitava il liceo classico Archita il magistrale, l'istituto magistrale Andronico e quant'altro ma sapete tutti qual è la vicenda di Palazzo degli Uffici un rimpallo, un ping pong tra provincia e comune perché i soggetti responsabili dell'immobile sono il comune, la provincia e le opere pie mancano i fondi, ora il comune non ha i fondi propri da versare per la ristrutturazione ora non ce li ha la provincia, ora è colpa del comune, ora è colpa della provincia e poi il governo dovrebbe stanziare i fondi e si dice i lavori inizieranno quando il governo darà i fondi, poi con la ditta che aveva iniziato i lavori c'è stato tutto un contenzioso una situazione di presunte infiltrazioni malavitose insomma alla fine passano i decenni e i decenni, forse arriveremo ai secoli nei secoli, amen, e Palazzo degli Uffici giace nel degrado assoluto la cosa che mi urta è vedere le amministrazioni comunali e provinciali che di tanto in tanto si autocelebrano, convocano conferenze stampa e annunciano l'inizio dei lavori pongono un termine degli stessi ma alla fine non cambia nulla ci sono circa 20.000 libri di pregio storico all'interno della struttura che giacciono abbandonati alle intemperie perché il tetto, il solaio, la volta è scoperta e quindi ci sono anche infiltrazioni d'acqua e noi, Taranto che aspira a essere capitale italiana della cultura rischia di gettare, di far marcire qualcosa come 20.000 libri lo vedete sotto gli occhi di tutti, finestre e vetri rotti di impalcature che recingono completamente la struttura chissà se riuscirà a essere completata prima la Sagrada Famiglia di Barcellona o Palazzo degli Uffici di Taranto questa è la triste storia di Palazzo degli Uffici da Taranto è tutto